Ciao ragazzi, se vi state chiedendo perché sei umano, non eri un cane? Perché forse vi siete persi il video precedente, siamo riusciti a ritrasformarci in una cosa stupenda. Speng, 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 e sei contento di nuovo di indiazze nel bagno? Eh? Si? No. Ah che bello, che bello, ma guardate che bel bagno, questa è la parte più bella, le bidelle, il sapone, vabbè. non è che non abbiamo controllato nei mobili se c'è qualcosa magari c'è una chiave strana per aprire la porta perché questa qui non va quindi dobbiamo vedere se c'è un'altra chiave vabbè riusciremo ad uscire da qui sembra che non c'è niente non so rimarremo bloccati qui per sempre aspettate mi è arrivato un messaggio da uno sconosciuto magari è lui che ci ha bloccati qui andiamo un attimo a vedere non si sa mai ciao brutto orrendo esserino io sono warby se vuoi uscire dal bagno devi affrontare due prove non ce la farai mai sei finito il cane diventerà il mio cane zombie e mangerà quello che è rimasto del tuo corpo ma si cosa ho appena visto cos'era quel mostro orrendo Quell'orrendo esserino E quindi è stato lui che si è bloccati qui Bravo, bravo Cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Devo superare due prove? Ma sì, le supererò E io aspetto Ma non è che qui intorno c'è nascosto la prima prova? Non è nel cesso? Non c'è Bene E allora Cosa vuoi, Warby? E prima morti, poi Warby E che cos'è la fabbrica dei mostri qui vicino a casa? Aglio Ah, oddio Ecco, secondo te chi è questo brutto esserino? Secondo te chi è? Ah, giusto, tu non puoi parlare Bene, Warby Vuoi che superiamo due prove? Beh, le supereremo Insieme al mio cane E ti distruggerò Aaaaaah Aaaaaah Grazie a tutti Grazie a tutti